Salve tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzini, questo nuovo video vi spiego come comprare così Canva sul sito Gamsco che è un ottimo servizio dove comprare qualsiasi cosa che vi piace per esempio come Netflix, Spotify, YouTube Premium, Disney+, Paramount+, e altre piattaforme per ascoltare musica soprattutto anche Adobe e Office 365 quindi in questo caso, in questo video vi spiego come proprio prendere Canva su questo sito quindi in questo caso il prezzo mensile di Canva come puoi vedere, mese di acquisto, un mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi se sei interessato, quello da un mese di 5,49€ più il codice promozionale che vedi sullo schermo qua hai un codice promozionale o un coupon, inserisci il codice promozionale qua e ti dà anche lo sconto in questo caso Canva sul sito originale come puoi vedere il Canva Pro ti offre tanti servizi però costa 110€ all'anno però se tu vuoi usarlo con tutti questi servizi qua, 5€ per 2-3 mesi ed è buono poi se non ti piace puoi sempre annullare così l'abbonamento quindi una volta che hai comprato poi l'abbonamento su Canva eccolo qua Canva, ti ho lasciato il link in descrizione che ti porterà sulla pagina di GamesGo e poi ti porterà anche su Canva quindi in questo caso vai su accedi, continua in un altro modo, continua con un indirizzo email e adesso fermiamoci qua una volta comprato così questi qua sono i miei account che ho comprato come puoi vedere io avevo comprato Netflix tre volte poi mi è scaduto l'abbonamento, ho ricomprato di nuovo Netflix tre mesi, 12€, 90 giorni ed eccolo qua quindi tu una volta che hai comprato Canva un mese vai al pagamento metti così la tua carta di credito, compra così il servizio una volta comprato ti manderanno per via email le credenziali oppure le puoi trovare direttamente sulla persona qua sopra e vai direttamente sul mio abbonamento e qui troverai il nome utente che sarebbe l'email come puoi vedere finisce come .com e qua sotto nascosto c'è la parola d'ordine da mettere su Canva ok, questo invece è di Netflix per farti vedere ancora meglio come puoi vedere Netflix torna su Netflix questo è l'account Netflix che mi hanno dato come puoi vedere se vado su account sicurezza questa è l'email che è uguale a questa qua quindi ho preso l'email da password e ho fatto l'accesso a Netflix stessa cosa anche con Canva accedi continua in un altro modo continua con l'indirizzo email ed eccole qua tu metti il tuo indirizzo email l'indirizzo email che ti hanno dato su Gamscope metti la password e fai l'accesso hai comprato il tuo Canva per un mese, due mesi, tre mesi, sei mesi, dodici mesi Gamscope è un ottimo servizio per risparmiare su parecchie piattaforme streaming e servizi per lavorare come Office, Canva, Adobe, Chat, GPT anche piattaforme anche per ascoltare musica e per vedere tv, serie tv e altri video quindi video come YouTube Premium quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video questo è il codice promozionale da mettere per risparmiare ancora di più ti rimborsirà anche se non sei soddisfatto del servizio quindi grazie a tutti per questa visione per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video entrare nel mio server Discord per chiedere anche supporto quindi grazie a tutti per questa visione iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao